Ci troviamo con Vivian Bile, possiamo dire donna partita di questo match davvero difficile per come si è messo sul finale perché prima del 75esimo non c'erano davvero dubbi, un rigore che ti sei sentita dibattere, eravamo veramente tutti su quel piede e sei riuscita davvero a fare un grandissimo gol. Sì, diciamo che purtroppo soffriamo sempre un pochino ogni partita, secondo me era importante prendere questa responsabilità perché sono una delle più grandi e volevo aiutare la squadra a decidere questa partita perché per noi è molto importante vincere tutte le partite. Com'è un rigore al novantesimo sull'1-1 quando sai che devi recuperare dei punti importanti sulle dirette rivali? Sì, sicuramente pesa un po' però come ho detto volevo prendere questo peso, me la sentivo, sono molto calma di testa quindi ho detto lo prendo io e fortunatamente è andata bene. Complimenti allora. Grazie mille. Grazie mille.